Di Rebecca ricordiamo i contatti. Vi ricordo i contatti per intervenire nel corso della diretta di processo al palio 339 15 20 060, il numero a cui inviare gli sms oppure la pagina facebook di Radio Scena TV. E adesso facciamo una pausa. La casa del caffè, tutte le migliori marche di cialde e capsule. Caffè Batani, Italian Coffee, caffè Borbone e Best Espresso. Compatibili con le macchine Lavazza, Nespresso e Dolce Gusto. E poi cioccolata, tè, tisane e prodotti per il cake design. La casa del caffè è il paradiso della Roma. A Siena, in strada Massetana Romana, 50 anni. Prendi un caffè anche tu? Ecco, mi ci vuole, mi ci vuole. E allora io nel frattempo vi ricordo di nuovo i contatti, la pagina facebook di Radio Scena TV.